Camer, ristrutturazioni di interni, Via Aldomoro 38, Sondrio. Avvio positivo sabato 7 settembre per il primo dei 13 weekend dei Sapori d'Autunno, stagione che si presenta ormai come una seconda estate. Inaugurazione alle ore 11.30 nello splendido giardino del Palazzo Regenzani, recentemente ristrutturato. Tutto nasce attorno al pizzocchero dell'Accademia di Teglio. L'Accademia di Teglio è nata nei primi anni del 2000 e noi proprio in onore del nostro piatto simbolo abbiamo inventato e ideato questa rassegna che appunto ci permette di offrire assieme ai pizzoccheri tutti i prodotti e i piatti della tipicità valtellinese. Oltre all'Accademia del pizzocchero, tante sono le istituzioni che sostengono la Kermes, capace di creare indotto economico valorizzando una tradizione culinaria ricca di sapori. Così come l'arte e la cultura. In prima linea il comune padrone di casa, rappresentato dall'assessore Ivano Saini. Con lui l'Associazione per la Cultura del Grano Saraceno di Teglio, nata per promuovere e incentivare la coltivazione di grani antichi, sinonimo oggi più che mai di cibo e di identità territoriale, che ha ideato l'evento collaterale ai giorni del Grano Saraceno, organizzando all'antico mulino ad acqua di menaglio degustazioni di frittole, le tipiche frittelle di formaggio valtellino casera. Visite guidate all'interno degli spazi espositivi, dove c'è tutta una documentazione fotografica riguardante la coltivazione soprattutto manuale di un tempo e anche tutta la ricerca che c'è stata di tipo storico sull'introduzione di questi grani nella nostra valle e come nel tempo si sono coltivati e soprattutto come hanno rappresentato un regime alimentare per la nostra valle. Grande attesa domenica 15 settembre per le iniziative all'aperto che le condizioni meteo sfavorevoli questa volta hanno impedito, come la passeggiata fra i campi di Segale, i giochi al villaggio dei bambini, i laboratori di Master Pizzoccheri in cui ognuno potrà esaltare la propria abilità nella preparazione delle tagliatelle di Grano Saraceno con gli esperiti dell'Accademia del Pizzocchero di Teglio. Noi direttamente faremo anche dei laboratori dove ci sarà la possibilità di provare a fare i pizzoccheri sia i bambini che gli adulti, un'esperienza peraltro ben riuscita quest'estate che abbiamo fatto con molta partecipazione. Veniamo da Milano, da Milano, per i pizzoccheri di Shat. Le sale di ristoranti e alberghi che hanno accolto gli ospiti del pizzocchero d'oro risuonavano delle tante voci di apprezzamento per il gustoso e raffinato menù a base di piatti della tradizione e di prodotti tipici. Questa rassegna ha portato un valore aggiunto a Teglio, alla sua gastronomia e al territorio. Dovremmo aggiungere qualcosa, magari un discorso di passeggiate, magari un discorso di sentieristica per uscire un attimino dal centro di Teglio perché anche fuori dal centro, anche fuori dal Teglio centro, Teglio offre delle grandi possibilità di passeggiate.